Il concetto di passato. Noi dobbiamo farci i conti. Il mano del cielo? Sì. E se uno ai conti non ce li vuole fare? Prima o poi ce li devi fare lo stesso, perché il passato ci segue. Tutto quello che abbiamo vissuto, tutte le cose per cui abbiamo sofferto. A me non mi ha deciso nessuno, sono uscito fuori per sbaglio, quindi... Vivono nel nostro presente. Conosciuto una? In che senso conosciuta? Guarda che è vero, eh. Vuoi? Come diceva il poeta... Senti. La piste della passione è crollata. Io non sono gay. L'incidente è chiuso. Adesso ho perso pure Simone. Che te frega se ci credo a me. Mi sono innamorato di uno come me. La barca dell'amore. Sei spezzata. E indovina di chi mi sono innamorato? Di chi? Del più bello. No. Simone non l'hai perso. Invece sì. Vivo che si chiama Mimmo e che Simone conosce già. Ah. No. Manuel. Non ci posso credere. Sì. E' contento che ci siamo trasferiti. Anche se dobbiamo dormire in stanza insieme. Ti voglio tanto bene. Non ti asci perché ti voglio bene. Perché ti dispiace a te? Ma dormiamo insieme, non ti fa venire un'idea. Mi valeva la pena. Scusa, Oscar Wilde ha finito in carcere solo perché era gay. Come è stato dopo la festa di ieri? Io penso che forse era meglio se non succedeva. Io al posto loro mi è stato così. Bene, come ti viste? Ho anche stato quel coglione di Simone che mi è stato a far diventare matto. Mi è stato a far diventare... Scusa, hai visto come Simone guarda l'avanzo di galera? Non è che sei già messo a sulle palle. E non lo chiamo così. Non ti è stato a sulle palle. Perché è da quale a chi te lo tocca. Che storia. Cosa? Il cielo stellato sopra di noi. La legge morale dentro di noi. Mi riguarda te, Anna. Se non lo tendo, la stiamo a rispettare la legge morale. E non ti potevo accompagnare, Simone? Mi dica che le manca, che ci manca, che mi manca. Lo vedi? Che fai? Torni? Lo trovi bello e affascinante? Bella e affascinante, però no. E poi comunque per te non va bene. Perché? Ancora sotto per lei? Perché questa fretta ti trova no? No, è rimasta a scuola perché doveva matenarsi in palestra. Sai che c'ha? Che? Che ci vuole parlare? Non ti vuole fare. Che ci vuole parlare? Ma dov'hai? Ti fa male? Sì. Ti fa male, ti fa male un uomo. Sì. Chiama qualcuno, cazzo. Di male, ti fa male?